Una giornata storica per il trasporto pubblico molisano, così i sindacati di categoria CGL, Cisleville e UGL a margine della sottoscrizione del primo verbale di accordo che introduce la contrattazione aziendale in ATM. Accordo, osservano i sindacati, che arriva dopo un ventennio caratterizzato da continui scontri, scioperi e totale assenza di relazioni industriali. L'intesa è contenuta in un verbale di sette pagine che raggruppa tutti i temi oggetto della contrattazione, dal pagamento degli stipendi alla rivisitazione degli aspetti retributivi e normativi. Cancellate anche le sospensioni al personale irrogate durante la pandemia. Dopo vent'anni, almeno in questa azienda, evidenziano le parti sociali in una nota. Finalmente si gira un'importante pagina auspicando che possa costituire un esempio e uno stimolo nel contesto del trasporto pubblico molisano.